E' il vostro amico, il vostro grande potente 11, iniziamo la partita E' il Mr. G! E' il Mr. G, scusate E' il Mr. G Mi l'ho dimenticato, e se tu non parli? Sì Raga, raga ho un passaggio, raga Passaggio Eh, perché? Ricarica Eh? Ricarica Ricarica La, 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 la Calor Agate Madre di sotto, calzate Ah! E' il nostro? Eh, sì! Dai! Alcuno però l'ho fatto male, con la bomba C'era l'attacco massiccio, vedi? L'attacco massiccio Non lo puoi prevedere C'è un comando, comando, comando Ho sentito che ammazzava No! E' il tuo popoliere, che scaccio è? Che spara questo? Cipolle L'agg! Eh, lo so Dai, tutto l'assalto, tutto l'assalto Tutti! Eh, mio, mio, mio! Pesce! Sì! Sì! Che battaglia! Che è questo? Quel stronzo cecchino di là! No! Ma la panculo! Quello stronzo cecchino del cacchio! Questa c'è, ti sta domandando Se tu non giochi, ti andrò meglio Allora tanto, Cecchino! Cagare! C'è il cacchio Manta oscura C'è rotto il cacchio C'è il cacchio A livello 30 Si capisce a livello 10 è in me serio Ma quello a livello 30 avrà mille abilità in più Giusto Certo 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 Ma guarda che fa il giugio tondo Ma che cacchio Ma mi stai dicendo perché non parli Che devo dire Scusa che devi dire Devi parlare Guarda quello Guarda questo Scusa Non parli Sembra catatonico Non credare Non farsi catatonico Ma che è stato catatonico Oh mio Ma te la studiare Scusa che doveci No! Mi stavo mettendo là dentro, che non aspettavo a quello che mi sparava. 11 a 7 bimbo, 11 a 7, e ancora non sono praticamente in forma, devo ancora riscaldare. Ma io pure mi vorrei scaldare. Sto parlando di te. Io mica avevo giocato. Sto parlando di me. Ma certo, io mica avevo giocato. Dove sei? Io non avevo giocato. Aspetta cosa che rumore fa. Ct o a? 10 a 8! Questo mi sta portando, è un borrone. Ma togliete! Mamma mia! Ma va a cagare sto scemo! Ma che resti i pantaloni c'hai? Cambiateli! Si è ridicolo! Sono belli i pantaloni. Stanno cagare. Ce li ha un po' grassetti. Grassetti. Grossi. Grossetti. Ha detto grossi. Qua qua. Ma guarda, li sto sparando quello! Chi? Lui! Mi sto sparando, non ha sparato. L'avevo visto da lontano. Ah. Che ti sparava. Questi cecchini del cacchio. Mori bimbo della mamma. No, ce l'ha fregato quello. Però lo sto facendo io! Comunque, vittoria! 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 Sì, sì! Tu hai perso! Tu hai perso! Io ho vinto! Tu hai perso! Io ho vinto! No! Che stacca male! Che stacca male! Un saluto! E alla prossima missione! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!